Noi come tutti gli anni presentiamo il nostro calendario e quello di quest'anno è dedicato praticamente ai paesi in festa e quindi in particolar modo alle proloco che animano questi paesi con le loro iniziative totalmente di volontariato. Questo qui sarà fatto quindi in collaborazione con loro che ci hanno raccolto tutte le foto più carine che sono state poi stampate in questo calendario che per 12 mesi rappresenterà praticamente in ogni mese uno dei comuni della nostra vallata. Ecco, venerà presentato domani e verrà omaggiato insomma tutte le persone che hanno nel cuore il nostro territorio. Sì, diciamo sono un attiratore di mille copie che verranno regalate ai nostri clienti e chiunque ne vorrà in qualche maniera avere una copia potrà presentarsi presso la nostra azienda e sarà tranquillamente omaggiato. Anche le proloco avranno a disposizione qualche copia? Sì, loro sono state chiaramente dedicate una certa quantità di copie gratuite che comunque possono distribuire a chi è che ne fa richieste ma è aperto a tutti comunque. Grazie. Grazie. Grazie.